Buonasera signori. Prima dose? Sì, prima. Mi fa vedere l'orario per cortesia? Subito. Li mettete qui in coda, sempre distanziati. Grazie, grazie. Ho inserito i dati e con piacevole sorpresa mi è stato dato subito l'appuntamento e il luogo. Infatti glielo ho detto, basta prendiamo subito l'appuntamento e andiamo. Abbiamo tenuto stretto, infatti. È la prima tappa, mettiamo la spunta sul quaderno. Allora, mi dicevano che devo compilare con i suoi dati, allora io scrivo intanto così. Sei agitato? No, non sono agitato, però mi sembra una cosa incredibile. Dicevano casino, qui, là. Mi sembra una cosa organizzata. Allora, dobbiamo fare il vaccino Pfizer, abbiamo indicazioni cliniche come da indicazioni regionali e nazionali. Lei farà il vaccino Pfizer. Già, ma abbiamo fatto tinta. Non ha sentito nulla, vero? Adesso le do il certificato di vaccinazione e le dico anche che, prima di lasciare l'ambulatorio, deve rimanere un quarto d'ora. Chiaro? Noi abbiamo fatto. Puoi mettere la spunta. Buona giornata e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie di cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.